È stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Urbino il quarantenne del posto che aveva tentato di ottenere indebitamente il gratuito patrocinio a spese dello Stato, omettendo di dichiarare nell'istanza presentata redditi derivanti da un'attività imprenditoriale svolta in nero. Dalle indagini partite da una segnalazione del giudice di pace è emerso che l'uomo aveva presentato un'istanza non corrispondente al vero che gli aveva permesso di ottenere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dello Stato. La discordanza tra il reddito dichiarato e quello risultante dalle banche dati infatti determinava il superamento del limite per l'ammissione al beneficio. Le indagini svolte dal personale della sezione di polizia giudiziaria della procura di Urbino hanno permesso di far emergere altre anomalie sulle fonti di reddito del quarantenne. L'uomo infatti risultava essersi intestato in poco tempo numerose vetture poco prima che queste auto cessassero la circolazione in Italia per avvenuta esportazione generando negli inquirenti il sospetto che l'indagato potesse svolgere in nero un'attività di commercio di autovetture usate. Grazie agli ulteriori accertamenti svolti dalla compagnia della guardia di finanza di Urbino il quarantenne è stato qualificato come evasore totale per aver omesso di dichiarare al fisco importi per oltre 500 mila euro.